Mi chiamo Giuseppe Carboni e ho 60 anni. Alla Boero ho fatto l'intervento per avere i denti fissi in 24 ore. Avevo difficoltà a masticare e poi mi vergognavo anche di parlare con gli altri e di mostrare i denti. Tutti quanti me ne hanno parlato molto bene e quindi ho scelto subito la Boero. Ho avuto un ultimo risultato subito e adesso posso anche sorridere e mangiare come voglio. Mi hanno addirittura coccolato. Grazie a tutti.